Due sconfitte in due partite. Dopo il colpaccio sfiorato di Brescia, la VL cade alla prima in casa con Venezia davanti al pubblico della Vitri Frigo Arena. Finisce 64 a 76 in una gara in cui al di là di un approccio arrembante del primo quarto dei ragazzi di Buscaglia vedrà Venezia sempre avanti al termine di ogni parziale. La Reher si dimostra superiore per fisicità, tecniche e percentuali e la VL, che già faticava a reggere la forza d'urto Veneta, deve pure fare i conti con Bamford a mezzo servizio. Totè sarà l'ultimo a mollare in una squadra che ha fatto una trasversale fatica a rovesciare l'inerzia di un ritmo di gioco imposto da un avversario dimostratosi superiore. In Serie B sorride invece l'Ital Service Loreto Basket che sbanca a Pescara 58 a 67 centrando la seconda vittoria su altrettante partite giocate. Nel calcio secondo pareggio consecutivo in altrettanti derby per la Vispesaro che dopo il 2 a 2 con la fermana esce dal Del Conero di Ancona con un pirotecnico 3 a 3. Ancona avanti con Spagnoli al dodicesimo ma Vische va al riposo in vantaggio grazie a un rigore di Di Paola e una deviazione di Mattioli su punizione dello stesso Di Paola. Il portiere neri però si fa male e il subentrante Polverino ha le sue responsabilità sui gol che portano l'Ancona di nuovo avanti con Basso e Agimang. Al 92esimo è però l'incornata di Silla a sigillare il 3 a 3 definitivo. Prima di campionato invece per la Megabox Vallefoglia nella Pallavolo che era il debutto a Pesaro davanti a 830 spettatori. Vincerà Roma al tiebreak con set sempre equilibrati. Le Tigri si prendono primo e quarto set, al quinto è però Roma a spuntarla 15 a 12. Uverture di campionato anche per la Fiorini Pesaro Rugby nella Serie A della Pallovale. Al Tecnovull Rugby Park a gioire è però Petrarca Padova che la spunta a 20 a 33. Pesaro reagisce un primo tempo di grande fatica con i Veneti a riposo sul 3 a 19. Rientra in partita ma i Veneti risultano spietati nel punire ogni sbavatura.